Bene ragazzi, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video del mio canale, altra lettura immagini per gli utenti del gruppo Fotografando di Facebook. Trovate qui sotto il link. Partiamo oggi con una nuova lettura che ci permetterà di commentare alcune delle vostre immagini e darvi dei consigli per migliorare la tecnica, la composizione e lo stile. Allora, partiamo dalla immagine successiva, quella della volta precedente, andiamo con la regia ad inquadrare la pagina Facebook Fotografando e partiamo da questa immagine che è quella dopo la quale ci siamo lasciati nello scorso episodio. Allora, Generoso ci manda questa immagine, questo bianco e nero, purtroppo di dimensioni veramente molto contenute, al mio schermo è un po' un francobollo, magari la prossima volta mandami un'immagine, inviaci un'immagine di dimensioni superiore. Comunque, Generoso ci manda questo bianco e nero che è piuttosto interessante, un viraggio piuttosto intenso, un punto di ripresa basso per questo paesaggio tra il montagna e il lago, non so, un corso d'acqua, qualcosa. È un bianco e nero piuttosto interessante, composto abbastanza bene, punto di ripresa basso mi piace, e mi ricorda alcuni bianco e neri dei maestri della pellicola nel passato. Quindi mi piace davvero molto questo bianco e nero, questa immagine, anche perché effettivamente c'è un qualcosa di differente dalla solita visuale punta e scatta. Il grande di questa, la grande differenza insomma che fa un po' questa immagine è il punto di ripresa, il bianco e nero molto tirato, qui abbiamo una zona dove probabilmente i bianchi sono addirittura un po' bruciati, però tutto sommato è un errore assolutamente perdonabile perché il mood dell'immagine c'è tutto, quindi buona la presenza generale di questo panorama in bianco e nero. Andiamo avanti e arriviamo a questa immagine di Gianluigi, che è una cascatella in sila, ce lo dice nella descrizione. Passiamo da un bianco e nero a un colore, piuttosto saturo. Allora, Gianluigi, questa immagine si nota ovviamente che tu hai posto attenzione nel creare l'effetto seta dell'acqua che scorre, con un tempo lento, la tecnica funziona, ci sta. Non mi piace molto la composizione, ovvero non la vedo molto efficace. è abbastanza forse claustrofobica, concentrata un po', certo, su questa cascatella, ma ci sono tanti altri elementi al contorno che non hanno un grandissimo interesse. non so che dire, oltre al fatto che si sarebbe potuta probabilmente studiare un'inquadratura migliore, perché questa diagonale così un po' non troppo tirata, non troppo osata, non mi fa impazzire. Non sono male i colori, i contrasti che hai estratto da questa scena, però, ecco, non al di là dell'effetto cascatella in movimento, non trovo grandissimi elementi che mi catturano l'interesse in questa immagine. Quindi, come altre volte ho suggerito a chi di voi manda le immagini per la lettura, provate qualcosa di diverso, soffermatevi meglio a pensare alla composizione, e magari trovate dei sistemi che permettano di tenere l'osservatore più agganciato alla vostra immagine per maggiori tempo. Andiamo avanti con questa ulteriore immagine di Carlo, che chiama Riflessioni, un'immagine assolutamente gradevole, con un bianco e nero piuttosto tirato, forse con alcuni dettagli del cielo un po' ammorbiditi, probabilmente dal fuoco che è caduto su questo primo piano dell'immagine, primo piano con questo personaggio che appare pensoso qui al parapetto. Mi piacciono molto gli elementi di chiaroscuro che si formano su questa ringhiera in muratura, e l'elemento a scacchiera con l'acqua che riflette gli stessi elementi è piuttosto interessante. Quindi graficamente, a livello di composizione, di chiaroscuri, di contrasto e conversione in bianco e nero, in generale, l'immagine mi piace. Che cosa si sarebbe potuto migliorare? Ma forse concentrare un po' più l'attenzione sulla figura, ok? Con un'inquadratura magari un po' più stretta nella parte bassa per sbilanciare un po' di più, magari un taglio a questo livello, per sbilanciare un po' l'immagine in modo da renderla un po' più dinamica e con una maggiore comunicazione di tensione. Però globalmente non ho grandissime critiche perché l'immagine funziona, è bella, e tanti elementi comunque gradevoli al suo interno. Procediamo con questa immagine di Alessandro che ci manda questo dettaglio di un calcello o qualcosa di similare che arriva da Napoli. Un'immagine che sfrutta abbastanza precisamente ebbene la simmetria di questa struttura. Forse qui si sarebbe potuto raddrizzare un po'. E c'è questo elemento di rottura che è una rosa un po' appassita, infilata in questa struttura. che non si sa se è stato fatto dall'uomo, se è stato fatto apposta da Alessandro oppure se è qualcosa di casuale. Allora, ti dico, globalmente è composta bene, mi piace anche l'idea, insomma, di contrasto da questo elemento della natura e gli elementi invece architettonici in ferro. Chiedo scusa, sono andato oltre dando dei colpi con il mouse. diciamo che non so che cosa dire di sbagliato di questa immagine, non è neanche così emozionale ed impattante, quindi sì, ma non eccezionale, ok? Quindi magari studia un sistema per enfatizzare ancora questo tipo di messaggi, se ti piace cogliere dettagli all'interno delle strutture create dall'uomo con intersecazioni invece di elementi della natura, in questo caso elementi staccati, strappolati dalla natura. Magari, probabilmente, sarebbe stato sufficiente un intervento di post-produzione che contrastando maggiormente questa immagine avrebbe restituito una maggiore croccantezza, una maggiore ruvidità di questa struttura, quella in ferro, insomma, e avrebbe creato più dinamismo. Probabilmente anche un bianco e nero in questa immagine ci sarebbe stato molto bene, magari rendendo la rosa molto scura per dare un'idea di questo colore rosso, ovviamente. Non sicuramente lasciando rossa soltanto la rosa, perché la desaturazione parziale è un messaggio che a me, onestamente, non arriva praticamente mai, quindi la sconsiglio sempre. Eccoci a questa immagine di Gianni che ci scrive Terrapille, che io non conosco che cosa sia, probabilmente è una zona dell'Italia, e questo, con questa atmosfera molto calda, molto golden hour, è un paesaggio che, devo dire la verità, mi piace molto. Mi piace come è stata composta l'immagine, con questa fettina lasciata nella parte alta dell'immagine della parte posteriore di colline, caduta nella nebbia, nella foschia. Questi colori molto ambrati, molto caldi, molto della terra, un elemento umano appena appena percettibile qui in basso, ma che quando ci accorgiamo della sua presenza andiamo un po' a fissarlo, per capire, no? È un po' qui tra questi alberi, è una delle parti più scure dell'immagine, e quindi diciamo che quando viene scoperto rafforza un po' la potenza di tutta la composizione, anche se è qualcosa di piccolo. Sappiate che tutte le volte che c'è un elemento umano all'interno di un'immagine, l'occhio tende ad andare a ricercarlo, quindi è molto forte come elemento compositivo, anche se, come in questo caso, è molto piccolo e di spalle non si capisce, immagino di spalle, non si capisce cosa stia facendo, chi sia e perché stia lì. Comunque buona questa immagine, mi piace, continua così Gianni, questo tipo di composizioni, di visuali, è molto molto gradevole, anche complice il fatto di questa stradina tortuosa che va a disegnare dei motivi curviformi che tagliano tutta l'immagine. Mi piace. Oggi mi piacciono le immagini che mi state, che mi avete mandato e anche in questo caso devo dire che Marcello ci manda questa geometria bianco e nero che a mio avviso è un'immagine molto azzeccata e ben realizzata. Forse avrei tirato ancora un po' i bianchi, soprattutto in questa zona delle nuvole e magari evitato questa sorta di vediamo se è vera forse un po' di vignettatura ma potrebbe anche non essere tale. In questo caso qui vedo un po' di scuro e lo chiamo vignettatura. In ogni caso in generale l'immagine è molto buona, mi piace la composizione che sfrutta la simmetria in maniera molto netta. Direi una one point perspective che ricorda le inquadrature di Stanley Kubrick nei suoi film, una presenza umana appena appena accennata anche qui con due windsurf che stanno veleggiando nella parte sinistra della nostra scena e ottimi contrasti di ombra che si stagliano sulla superficie più chiara colpita invece dal sole. Quindi immagine sicuramente efficace. avrei schiarito ulteriormente le parti bianche ed evitato questo effetto di mi pare un po' di vignettatura in queste zone. Però buona, buona anche questa immagine mi piace. Maurizio ci manda questa immagine invece di direi una semi macro molto sfocata posteriormente di questa lumaca appiccicata questa credo canna di bambù è un'immagine minimale non mi dispiace è realizzata abbastanza bene perché vedo una buona nitidezza nella parte frontale e un ottimo sfocato posteriore quindi tecnicamente nessun problema avrei probabilmente sicuramente contrastato un po' di più l'immagine per creare ancora più un effetto di staglio di separazione tra il soggetto principale e lo sfondo sfocato e probabilmente avrei composto in maniera differente l'immagine vero che è in un punto probabilmente interessante un incrocio dei terzi magari vicino anche alla spirale aurea e di spirale si tratta anche perché ovviamente è un guscio di lumaca però forse avrei eliminato un po' nella parte superiore nella parte inferiore per concentrarmi un po' di più su quello che importa maggiormente questa zona è abbastanza monotona qui c'è una variazione quindi avrei tagliato un filino forse qui e un po' verso il basso lasciando meno spazio sulla destra però comunque la composizione non è affatto male andiamo avanti con questo ritratto vintage di o vintage di Mariam allora questa immagine che mi ricorda un po' lo stile in instagram perché sembra un filtro così un po' vintage ovviamente e lo dice anche Mariam è molto vignettata non mi conquista più di tanto questa immagine Mariam come altri ritratti che ricordo tu hai realizzato recentemente non mi conquista più di tanto perché appunto sembra molto instagram cioè non c'è nulla di sbagliatissimo ma è molto filtrata molto quel look che si vede molto troppo oggi quindi esci un po' da questi schemi come hai saputo fare in altre occasioni c'è anche una qualità piuttosto bassa una sfocatura sul viso e una magari migliore posizione del fuoco verso i capelli quindi anche qui un errore fotografico non non diciamo evitabile insomma evitabile sicuramente vediamo se c'è spazio ancora per un'immagine perché oggi siete stati piuttosto bravi e quindi abbiamo questa visuale dall'alto di Maurizio che ci manda questo tramonto a marina di Pizzo Calabro ok zona in cui sono stato nella splendida Calabria e direi che dal punto di vista della composizione della tecnica fotografica il viraggio eccetera ci siamo è un'immagine gradevole è una di quelle immagini che come altre volte vi ho commentato è un po' cartolina un po' stereotipo non c'è una grandissima ricerca di nulla di personale e avrebbe un po' potuto farla chiunque quindi anche qui nulla da commentare di particolarmente negativo ma un'immagine un po' vista il tramonto classica ambientazione che attrae tantissimi fotografi soprattutto fotoamatori e una visuale dall'alto anche gradevole per carità ma nulla di stratosferico e anche qui ancora vi invito a provare qualcosa di differente una composizione alternativa un punto di ripresa sì certo qui eravamo dall'alto poco potevamo fare però in generale cercate sempre qualcosa per differenziarvi un po' dallo stereotipo andiamo avanti con quest'ultima immagine di oggi che ci manda Loris Loris che dice che ha scattato questa immagine con una Fuji X T10 ed è la prima scattata in notturna quindi bravo perché comunque le foto in notturna non sono affatto semplici questa composizione è gradevole mi piace il colore blu di questa lampada un po' così che sembra creare un effetto un po' diaries una cosa un pochino più lugubre del normale la composizione è armoniosa niente niente di particolarmente sbagliato forse avrei raddrizzato questa linea qua rendendola parallela al bordo del fotogramma che il tutto crea un po' di ordine in più quindi o c'è una grande inclinazione che è fatta appositamente con un grandangolo per creare dinamismo oppure andiamo a sistemare queste linee con gli strumenti che abbiamo a disposizione Lightroom l'avrebbe sistemato in pochissimo tempo buona l'esposizione i dettagli sono rimasti il rumore non è percettibile quindi direi che come primo esperimento loris ci siamo bene passiamo con la regia a inquadrare nuovamente il sottoscritto e basta anche oggi abbiamo letto una buona quantità di immagini vi ringrazio per aver seguito questo video e spero di avervi dato anche qui dei consigli utili e spunti per migliorarvi vi do l'appuntamento anche questa volta al prossimo mercoledì con una nuova lettura immagini mandate le vostre immagini nel gruppo fotografando trovate il link qui sotto noi ci vediamo al prossimo video un saluto e un abbraccio ciao da Paolo Neoz